Sampato sera, Cristian. Penso di sì al fine, al secondo tempo, perché non abbiamo giocato bene al secondo tempo, ma al primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene. Secondo te perché il Parma ha un tempo di amnesia quasi costante in tutte le partite? Solitamente è il primo tempo. Stavolta, come è accaduto con Venezia, è stato il secondo. Perché secondo te? Sembra quasi che giochi in due partite in una. Io personalmente non so. Io sono sempre pronto. Non so cosa pensano i ragazzi, cosa pensano i mister durante la partita. Io sono sempre il mio mondo. Tu sei concentrato. Oggi me l'Andrea ha detto. Il Tarbini non ci fa paura, mi carica parlando di se stesso. Per te? Per me è normale. Cioè è felice giocare allo stadio così, con sposi così. E a Parma. E a Parma e al Tarbini. Senti Luca, per vincere un campionato ci sono tante componenti. La storcetta? Ciao. Grazie a tutti.